Disagio posturale, ristrettezze armoniche, location imprevedibili, riuscirà il nostro intrepido performer a domare l'ostilità del diabolico pianetto? Benvenuti a... Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno.